L'obiettivo non è quello di far cambiare idea a Putin, sarebbe un obiettivo totalmente lunare, dato il fatto che quello che anima questa guerra è un progetto ideologico. L'ideologia non si cambia attraverso il cambio di un calcolo materiale, quindi le sanzioni non servono a questo, a che cosa servono le sanzioni? A ridurre progressivamente, e quindi qua l'arco temporale che abbiamo in mente è fondamentale, la capacità della Russia di continuare questa guerra, ma questa è una maratona, non è uno sprint, quindi pensare che dopo quattro mesi le sanzioni, così come sono state concepite, siano efficaci è semplicemente non aver chiaro che l'obiettivo che si ha in mente è quello, diciamo, purtroppo uno scenario di una guerra che durerà non mesi, anni, cioè durerà, lo devo dire chiaramente, finché Putin rimarrà al potere. Perché anche se noi iniziamo a vedere, come io credo, arrivando all'autunno, all'inverno, una riduzione del livello di violenza, perché semplicemente la Russia non avrà le capacità di sostenere questo livello di violenza, e questo ci darà l'illusione di una guerra che finisce, tempo, tre, quattro mesi, ci ritroviamo la primavera, l'estate prossima, che, tipo gioco dell'oca, si rinizia. Quindi le sanzioni sono state disegnate e quelle che verranno sono state disegnate per quella, ripeto, che è una maratona, non si può valutare oggi l'efficacia delle sanzioni, perché, ripeto, il contesto nel quale sono state attuate e verranno attuate è diverso. È d'accordo.